Buongiorno a Laura Baiardelli che oggi con noi in questa nuova puntata di Pink and Green a parlare di economia circolare per le PMI. Allora diciamolo, noi tante volte facciamo puntate dedicate proprio al mainstream, qui è un po' più delicata la faccenda. Laura buongiorno. Buongiorno Cristina e buongiorno a tutti. Dicevo delicata la faccenda perché si sta parlando proprio di economia, economia italiana, perché le PMI sappiamo sono il substrato dell'economia italiana. E Laura Baiardelli che adesso si presenterà perché fa veramente tante cose, ha deciso poi con un collega di scrivere un libro con Aldo Bolognini Cobianchi. Che è un mio grande amico. Ecco, bellissimo scrivere libri con amici. Tra altro so che i proventi vanno a un anno profit, quindi ottimo. Sì, ICT Angels di cui sono ambasciatrice. Ah bene, ecco, questa mi mancava che c'era anche questa cosa. Allora Laura Baiardelli velocemente si presenti al nostro lettore. Ok, allora io sono manager in una primaria compagnia assicurativa e negli anni ho affiancato degli hobby, delle passioni, prima soprattutto in ambito sociale e poi via via in ambito ambientale. E quindi sono nel comitato d'indirizzo che si chiama Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo, dove seguo proprio le tematiche sociali, culturali e dell'ambiente. E poi sono nel comitato scientifico dell'osservatorio metropolitano di Milano. Dicevo che la coscienza ambientale è maturata quasi contestualmente parallelamente a quella sociale. All'inizio alcune persone erano un po' incredule, ma in realtà i cambiamenti climatici hanno impatto soprattutto sulle persone con meno possibilità. È molto forte questo link. Ed è sempre più forte, brava. Sì, gli SG l'hanno dimostrato. Non si può essere ambientalmente a posto, ma lo si deve anche essere dal punto di vista sociale. Arriviamo alle nostre mitiche piccole e medie imprese che a volte si nascondono dietro una cortina di dubbi o anche bufale. Quali sono quelle che vanno sfatate subito per dire alle piccole e medie imprese cavalcate subito l'economia circolare al meglio? Ne vedo due prevalentemente. Una è spesso le persone associano l'economia circolare al riciclo e i processi di riciclo sono spesso considerati maleodoranti, li si associa a montagne di rifiuti. L'economia circolare è molto di più. Questo noi lo sappiamo. E cosa vediamo? Che in realtà anche nell'ambito dei processi di riciclo o spesso di upcycling c'è proprio invece una ricerca per massimizzare le risorse che si vanno ad elaborare di utilizzare per esempio delle basse temperature perché otteniamo diversi vantaggi. Uno, non produciamo odori cattivi. Due, riusciamo a preservare vivi quegli elementi che ci servono per valorizzare la materia prima e seconda che andiamo a produrre. Perché sappiamo che a tante persone dà fastidio avere vicino questo tipo di impianti e quindi sempre più si va nella direzione di ottimizzare. E anche l'aspetto estetico è un aspetto che sempre più viene considerato. Ho visitato proprio un'azienda che per esempio produce degli impianti di riciclo e li inserisce all'interno di grossi container blu elettrico veramente gradevoli proprio per ridurre l'impatto anche sulle comunità. L'altro aspetto è quello di dire ahimè l'economia circolare come tutte le grandi transizioni sono un tema da grandi aziende. In realtà no, riguarda anche le piccole e le medie. Perché? Perché si può fare profitto e di imprese, io ne ho viste diverse, che per scelta decidono di adottare i principi dell'economia circolare cercando di calarli il più possibile nella propria realtà. E l'altro aspetto è che quando una piccola media impresa fa parte di una filiera, non solo per normativa ma anche per esigenze di mercato, l'azienda capofila potrebbe trovarsi poi a chiedere alle PMI che cosa state facendo. Ne aggiungo un'ultima che questa mi è derivata anche parlando con un'amica imprenditrice, le PMI spesso fanno già molto in ambito di sostenibilità ed economia circolare ma sono timorose nel comunicare cosa fanno, un po' per, non so, forse a volte un po' quel pudore che spesso hanno gli imprenditori e un po' anche per il timore del greenwashing. Ecco invece secondo me prendiamo coraggio, misuriamo cosa facciamo e raccontiamolo. Certo, comunque ha toccato tutti dei temi che mi fanno dire che ci vuole tanta formazione e conoscenza sull'economia circolare, questo vuol dire anche nuovi posti di lavoro, avvicinarsi a dei consulenti che ne sanno e possono suggerire ma anche che devono prepararsi. Allora dove si insegna l'economia circolare? Allora l'economia circolare si insegna già nella, ci sono degli TS, quindi delle post scuole superiori, ci sono degli istituti anche specializzati su queste cose e sempre più si stanno aprendo e il bacino di giovani che va a specializzarsi in queste scuole potrebbe essere proprio il target ideale per le PMI e poi ovviamente abbiamo molte molte università, centri di ricerca, società di consulenza. È importante però non pensare che la formazione debba riguardare qualcosa che sta fuori dall'azienda e che quando mi serve porto dentro. Bisogna investire nella crescita del capitale umano anche all'interno delle imprese. Questo a mio avviso è un aspetto molto importante e poi anche noi come cittadini dovremmo formarci, non solo come dovere civico, ma proprio perché è bello partecipare a questa transizione. Noi possiamo fare molto per spingere a Cristina. Sono assolutamente d'accordo e devo dire che il successo di questa rubrica lo dimostra. Siamo in una catena circolare che inizia proprio da noi. E quindi mi viene anche da pensare che la gente deve capire. Economia circolare porta con sé delle azioni, anche dei termini. Secondo lei è più facile riusare o riciclare? Allora, noi in Italia siamo abituati, abbiamo una lunga tradizione del riciclo per cui siamo spesso portati a riciclo. Parlo anche come cittadini. In realtà dovremmo abituarci prima di tutto al riuso, ad estendere la vita dei beni che utilizziamo o a trovare degli usi diversi. Io per esempio ho recuperato dei vecchi paioli che degli amici volevano buttare e sono dei magnifici portapiante. Quindi bellissime. Magari sono pure in rame. Sono in rame, sono anche antichi, sono bellissimi. E certo, qual è l'altro aspetto? Bisogna poi via via entrare, sperimentare e passare a dei ricicli sempre più virtuosi. E per questo è importante riuso un termine che ho usato prima, quello della misurazione. Nel senso che per fare un riciclo efficiente che sia vantaggioso per l'ambiente, per le persone che vi lavorano, vantaggioso per la comunità e anche profitevole perché non dobbiamo andare in perdita, dobbiamo badare a tutte le dimensioni, è importante misurare perché magari il processo che mettiamo in piedi all'inizio è abbastanza efficiente ma si può migliorare. Ho parlato proprio anche con degli imprenditori che mi raccontavano come per esempio il processo di recupero di tutte le materie preziose dai RAE piuttosto che dai pannelli fotovoltaici, magari all'inizio si è partiti con un processo e lo si è via via cambiato, ma è importante misurare. Andare a senso potrebbe essere rischioso, si potrebbero perdere delle opportunità che magari uno dice no non lo faccio o al contrario avere la brutta sorpresa poi e scoprire che magari non è così efficiente. Ok, sì, in effetti comunque stiamo parlando di economia, cioè non di processi che ci possono sfuggire da delle logiche industriali molto precise. Tra l'altro giusto ieri parlavo con una prossima intervistata di Pink and Green a brevissimo e lei mi diceva finché però non ci sarà la capacità di mettere a business tutto questo sarà un po' difficile spiegarlo. È un momento importante, storico e io direi, visto che lei fa parte anche di Fondazione Cariplo di iniziare a ragionare su un premio alle PMI in tema di economia circolare. Chissà, il nostro target è un po' diverso ma abbiamo un mondo abbastanza ampio per cui c'è anche la parte di Cariplo Factory, comunque un mondo abbastanza ampio per cui sì, bisogna raccontare e premiare i racconti, soprattutto bisogna raccontare. C'è bisogno che le testimonianze siano sempre di più autentiche e soprattutto da parte di imprenditori. Un'amica imprenditrice mi ha detto come ha apprezzato leggere delle testimonianze per prendere spunto per la sua attività e chissà per future altre. Ecco, questo lo si fa attraverso il vostro libro, esatto, perché lo ricordo, Economia Circolare per le PMI, edito da Franco Angeli, lo si trova in libri, eccolo, eccolo, perfetto. Mi permette, eccolo qua. Diciamo che è giustamente, e i proventi vanno a City Angels. Allora io ho un'ultima domanda, di che colore è secondo lei l'economia circolare? Secondo me è azzurra. So che tanti direbbero verde, io dico azzurra, perché ho in mente, io sono cresciuta con un cartone animato che era Capitano Arlok, che in realtà era un cartone animato ambientalista. Per me la Terra è azzurra, il colore della Terra dallo spazio e le tecnologie spaziali ci sono molto utili per tutto quello che riguarda sia la transizione sostenibile sia quella circolare. E quindi spero che sia sempre azzurra questa Terra, che si riesca veramente a fare qualcosa e a non deturparla. Certo, questo è il nostro obiettivo. Grazie Laura per questa interessantissima testimonianza. A presto e buon lavoro. Grazie altrettanto.